riguarda esclusivamente i sub-emendamenti riferiti agli emendamenti del Governo. Allora, adesso passiamo quindi ai pareri. Passiamo ai pareri, quindi chiederei al relatore Melilli di darmi i pareri, cominciando dall'1.4 mila. Sì, Presidente, siccome noi abbiamo lavorato sul testo 2, tornando da capo, se mi può fare la cortesia di chiamarmi la pagina. Sì, ma credo che tutti siamo sul testo 2. Sì. Allora, questa è la prima pagina del fascicolo, 1.4 mila del Governo. È proprio il fronte pagina, guardi. Sì, sì, favorevole. D'accordo. Allora, aspettate però, per avere magari più organicità, perché sono non di seguito, io forse chiedo anche agli altri relatori di darmi il parere uno per uno, così facciamo prima, colleghi. E allora, Polverini. Contrario. Cariello. Ci rimettiamo all'aula. Melilla. Contrario. D'accordo. Allora, adesso siamo al 1.4 mila 1. Allora, aspettate, il Governo lo facciamo anche uno per uno? Allora, uno per uno mi suggeriscono gli uffici, anche il Governo. Allora, Vice Ministro, se mi dai pareri a seguire. Conforme. Conforme. Al parere del relatore di maggioranza. Grazie. Così come sarà per tutti gli emendamenti. Va bene, allora non la consulterò più. Quindi andiamo all'1.4 mila 1. Favorevole. Favorevole. Polverini. Contrario. Cariello. Contrario. Melilla. Contrario. Contrario. Sì. Siamo al 0,1.4 mila 2,1. Prego, Melilli. Sì, mi scusi, ma... A pagina 5, guardi. Sì, è contrario, contrario. È contrario, va bene. Polverini. Favorevole. Grazie.